Ciao a tutti, sono Simone e questo Experimenting Garage. Oggi smonterò questo vecchio router wireless Netgear. Questo router, che ha un design molto moderno, a dir la verità, in realtà ha ben più di 10 anni. Quando lo comprai mi ricordo che sulla scatola vantava la conformità allo standard Draft N, quindi non era ancora definitivo lo standard 802.11 N, ma lui già ce l'aveva come bozza, e grazie a questo prometteva velocità molto più elevate rispetto agli standard B e G, con cui però rimaneva compatibile. Non solo, mi pare dicesse anche di avere un sistema di antenne intelligenti, forse fino a 7 antenne, ed è la cosa che più mi incuriosisce andandolo ad aprire oggi. Spero di non trovare quindi il solito circuito stampato con i soliti componenti, ma questo fantomatico sistema di antenne. Ovviamente lo smonto perché non funziona più, ho provato ad utilizzarlo in casa come ripetitore, ciò collegato sul retro un cavo LAN che arriva dal router principale. Questo ricreava un'altra rete wireless, però le velocità di connessione erano veramente imbarazzanti. E non solo di connessione wireless, anche attaccandoci di nuovo il portatile con un altro cavo Ethernet, la velocità era di circa 1-2 Mbps, roba da fare concorrenza ai vecchi modem 56K. Detto tutto ciò, vado in esplorazione. Sul retro questo router ha un paio di viti esagonali e speravo di avere l'inserto adatto per il cacciavite, invece sono tutti inserti troppo grandi, quindi questi due viti iniziali dovrò forzarle in qualche modo. tipo il biadesivo più forte sulla faccia della terra. Ok, ce l'ho fatto. Ho tolto il pannellino frontale che ho visto che era attaccato solo con del biadesivo, ma ora serve altra forza brutta. Ho rimosso un pannello, questo è quello che c'è all'interno e mi sembra come di essere sul lato inferiore della scheda stampata. Adesso provo a rimuovere anche il pannello sull'altro lato. Anzi, ho trovato delle viti di dimensione umana, vado a svitare quelle. Questo è il circuito stampato, ci sono un paio di antenne attaccate con il biadesivo sull'altra copertura del router, adesso vado a staccare anche quelle. La bestia è stata liberata. Allora, alla fine dei conti vediamo cosa abbiamo. Allora, questo è il lato superiore del circuito stampato. Sul retro abbiamo la porta ADSL, quattro porte LAN e il connettore del trasformatore per l'alimentazione, più il tastino per il reset. Sul lato frontale abbiamo ben otto LED, di cui due verdi e sei bicolore, che probabilmente andrò a smontare per recuperare per progetti futuri. Per il resto ci sono i soliti componenti, i condensatori, i bobine, però ci sono una certa quantità di circuiti integrati, di chip. Uno, due, tre, ne vedo quattro. Quindi vuol dire che c'è molta elaborazione in un router. E tra l'altro noto in questa zona un alone, quindi forse c'è entrata dell'umidità e questo potrebbe aver danneggiato qualche componente e potrebbe essere la causa della velocità bassissima che ho notato ultimamente provandolo. Qui abbiamo le antenne, sono due, quindi chissà cosa mi ricordavo. Si agganciano sul retro, su tutto questo blocco, che deve essere però il reparto che gestisce appunto il segnale delle antenne. Forse è in questa zona che c'è una sorta di sistema avanzato per la gestione del segnale. E aprendo ulteriormente il blocco delle antenne vedo che c'è come inserita una scheda, non so se sia una scheda che si sono inventate sul momento oppure se sia una scheda tipo quelle standard che andavano negli slot laterali dei vecchi PC. Oh, e sapete che secondo me potrebbe non essere un'ipotesi così azzardata? Vado a dare un'occhiata su internet. Ci avevo visto giusto, questa è una scheda PCMCA. Questo è l'acronimo di questo standard infinito e quindi questo router ha questa porta qui quindi teoricamente si potrebbe aggiornare questa scheda wireless oppure mettere questa scheda wireless in un vecchio computer. Questa non me l'aspettavo. Ok, più di così non posso smontarlo. Ho fatto comunque una scoperta interessante e prima di buttarlo via dissalderò i led per utilizzarli per altri progetti magari anche il connettore dove si inseriva l'alimentazione. E anche per oggi è tutto ci vediamo al prossimo video di Esperimenti in Garage. Ciao ciao!